Sia tuo nonno che tuo padre, anche tu siete tutti creativi, siete tutti imprenditori e tuo papà è incredibile come venendo da un settore è andato poi sulla moda che è un settore quasi completamente diverso, si può dire completamente diverso e poi è andato su real estate, ha fatto tantissime cose completamente diverse quindi questo è proprio una vena imprenditoriale molto forte che c'è in famiglia Sono pienamente d'accordo e mi piace che tu abbia colto questo passaggio perché spesso dico, soprattutto quando faccio qualche volta delle visite guidate al museo mi piace sottolineare che anche mio nonno, pur essendo un industriale quindi il concetto di industria e creatività tendenzialmente non le abbini al primo colpo però la mente creativa era già là, e cioè trattori prima, poi dopo e avere successo bruciatori, condizionatori, trattamento acqua e avere successo automobili e avere successo, oliodinamica e avere successo ultimo o meno importante, vino e avere comunque sia un discreto successo anche lì è saltare, sono tutte industrie, però saltare da un campo all'altro non è una cosa così scontata quindi grande creatività che poi mio padre ovviamente ha trasformato col suo stile e col suo modo di fare, mentre teneva intanto gestiva le altre due che erano rimaste all'epoca dopo la cessione della trattoria e delle automobili Bene, benvenuti in questo nuovissimo episodio del podcast 1% e oggi abbiamo un super super iper ospite che ovviamente fa parte dell'1% che è Ferruccio Lamborghini, piacere di averti qui Ferruccio Ciao, piacere mio E ovviamente questo episodio l'aspettavamo da un po' di tempo perché è un po' che martellavamo Ferruccio nei social il nostro super Mattia lo stava contattando e alla fine Ferruccio tu sei molto disponibile, molto più di altri devo dire la verità, come spesso accade da persone che per noi fanno parte dell'1% apposta però prima c'è la particolarità di questo podcast che è questa, che io chiedo sempre all'ospite di presentarsi così almeno spiega a lui cosa fa nella vita ed è molto bello perché ognuno ha un'interpretazione diversa magari da quella che posso avere io e tu ovviamente sei molto conosciuto insomma io dico sempre se non lo conoscete dove siete stati fino a questo momento però ti voglio presentarti cosa fai nella vita perché comunque fai più cose Sì, posso iniziare dicendo che sono Ferruccio ho 32 anni, primo genito di una famiglia abbastanza conosciuta almeno, quantomeno il nostro cognome nel mondo difficile che non si sia sentito il cognome che porto e mi occupo, seguo insieme a mio padre le attività di famiglia alla nostra azienda la Tonino Lamborghini e parallelamente ho invece un progetto con un altro marchio della nostra famiglia per un progetto di mobilità elettrica e cerco di mandare avanti una tradizione iniziata da mio nonno che è stato il grande Ferruccio a cui tutti penso dobbiamo tanto per vari aspetti Assolutamente, insomma l'Italia è diventata più grande ancora nel mondo anche grazie a Ferruccio, a tuo nonno di cui tu hai ereditato il nome Sì, non fosse sufficiente il cognome ci mettiamo il carico aggiuntivo col nome E comunque è molto bello perché a parte che Ferruccio è un bel nome ma ovviamente ricorda anche tuo nonno e tu hai anche un po' il peso forse ti faccio subito questa domanda hai un po' il peso di questo nome che ti è stato dato? Ma peso no perché peso ha un'accezione negativa di sicuro la responsabilità e l'onore e l'orgoglio che ovviamente in base alle situazioni possono avere anche un'accezione un po' negativa però peso no per fortuna no E senti Ferruccio, tu sei il figlio di un marchio molto conosciuto quindi Lamborghini, l'abbiamo detto, è uno degli emblemi italiani e raccontaci un attimo la tua storia però in particolare poi raccontiamo magari quella dell'azienda Tonino Lamborghini cosa fa oggi adesso lo vediamo un attimo per chi non lo sapesse ancora però tu in particolare quando sei nato? quali sono le tue passioni? raccontaci un attimo Ma allora diciamo che sin da piccolino consapevole dell'appartenenza al mondo automotive ero molto appassionato di due ruote quattro ruote prima automobili in particolare auto storiche mi studiavo tutti i libroni o riviste del passato mio padre ne ha correzionate tantissime e quindi in un modo o nell'altro diciamo un bambino votato a questo tipo di settore a questa storia che fa parte anche di me e poi attorno all'inizio dell'adolescenza sono passato più alla passione proprio pura per le due ruote e la competizione e quindi sono stato anche pilota per un buon periodo diciamo dai dal 2002-2003 fino al 2014 in varie categorie mi sono tolto anche qualche soddisfazione e poi nel 2000 fine 2014 compreso che non aveva troppo senso cercare di continuare con la carriera sportiva sono entrato in azienda in tutto ciò diciamo sto omettendo che sono stato uno studente abbastanza in gamba fino al liceo poi disastro all'università disastroso quale indirizzo avevi preso? avevo iniziato con economia e commercio il primo anno per onestà diciamo ho avuto anche un po' di sfortuna perché mi ero rotto una clavicola quindi ogni volta che c'era la sessione d'esame non ero proprio ero impraticati per me una volta sotto i ferri un'altra volta un altro problema quindi ma soltanto il primo anno gli altri è stato io diciamo che non era qualcosa che ti interessava ero andato un pochettino in tilt mettiamola così quindi due anni fatti molto male di economia anche in virtù poi di un patto che avevo con mio padre cioè se vuoi continuare a correre però si fa l'università magari facciamo economia che può servirti per il futuro quindi l'avevo accettato di buon grado poi avendo visto che sostanzialmente i due anni li avevo buttati e avevo deciso di terminare con le corse e ho detto ok entro in azienda e faccio un percorso per i fatti e-mail quindi avevo iniziato scienze della comunicazione poi sono entrato talmente tanto in azienda che non ho avuto la forza no il tempo si trova tutto si trova non ho avuto il nervo necessario ed è una cosa di cui mi pento abbastanza avrei preferito fare come tanti riescono e cioè coniugare lavoro e studio non sono stato abbastanza duro avrei dovuto fare un po' di più ok ok il tuo l'hai fatto comunque ci provo e senti a che età sei entrato in azienda ne è nato ognuno Lamborghini allora per certi aspetti da sempre dico così perché le prime volte che mio padre ha iniziato a raccontarmi qualcosa dell'azienda ma per raccontarmi non era facciamo bruciatori tuo nonno faceva trattori si fanno ancora auto ma le fa qualcun altro andava proprio su alcuni dettagli importanti della nostra azienda quindi mi sento di dire che sono coinvolto da quando ho 5 o 6 anni ma sono dentro in azienda da quando ne ho 24 ho iniziato a gennaio del 2015 gennaio 2015 si sono entrato nell'ufficio marketing quindi ero un po' il garzone del dipartimento e assistente personale di mio padre quindi ogni volta che lui riteneva necessaria la mia presenza come auditore io mi presentavo prendevo appunti quindi mai come parte attiva semplicemente un auditore per cercare di prendere un po' conizioni di causa di tutte le aree dell'azienda di attingere più possibile in ogni angolo aziendale così almeno potevi poter quanti applicarlo è un insegnamento che mio padre ha voluto dare a me ma deriva anche da mio nonno ovviamente ognuno di noi ha il proprio talento la propria inclinazione la propria passione il proprio settore però se hai un'azienda tua di famiglia puoi essere esperto ok in un settore ma non puoi permetterti di dire no guarda non sono un esperto di comunicazione allora non me ne occupo minimamente non devi diventare laureato in tutte le materie però avere condizioni di causa un po' su tutto sì poi il 20% di tutelare della business se no non puoi dirigere esperto di niente consapevole di tutto ecco in un certo senso questa è la prima frase da segnare ragazzi esperto di niente consapevole di tutto e senti tanto per dare un'idea a chi magari non la conoscesse ancora scusami cosa fa la Tonino Lamborghini siamo da tutti i punti di vista un lifestyle experience brand nel senso che mio padre ha fondato l'azienda nel 1981 per combaciare far combaciare la sua passione per gli accessori per la moda con il nostro heritage meccanico industrial e quindi ha iniziato con gli accessori uomo-donna occhiali orologi pelletteria accessori gioielleria di vario genere ed è stato tra i primi appunto a cercare di dargli quell'impronta con l'influenza meccanica il dado il dado cieco la brugola quindi alcuni elementi innovativi per l'epoca in un contesto in un settore abbastanza diverso quindi quello della moda e da lì poi dopo ha iniziato a diversificare in maniera abbastanza forte quindi dall'avere il brand addosso ma ad avere anche il living poi il food and beverage come poi espressione diciamo evoluzione del living anche real estate quindi ora tocchiamo un universo abbastanza ampio di prodotti e di categorie merceologiche alcune le gestiamo direttamente altre le gestiamo in licenza altre con partnership di varia natura e quindi un universo che è un po' l'espressione della mente eclettica e della creatività di mio padre sempre votata a cercare nuovi campi di applicazione si può dire che siete tutti ovviamente quando uno nasce in un certo contesto apprende più possibile magari replica più facilmente però sia tuo nonno che tuo padre anche tu siete tutti creativi siete tutti imprenditori e tuo papà è incredibile come venendo da un settore è andato poi sulla moda che è un settore quasi completamente diverso si può dire completamente diverso assolutamente e poi è andato su real estate insomma ha fatto tantissime cose completamente diverse quindi questo è proprio una vena imprenditoriale molto forte che c'è in famiglia sono pienamente d'accordo e mi piace che tu abbia colto questo passaggio perché spesso dico soprattutto quando faccio qualche volta delle visite guidate al museo mi piace sottolineare che anche mio nonno pur essendo un industriale quindi il concetto di industria e creatività tendenzialmente non le abbini al primo colpo però la mente creativa era già là e cioè trattori prima poi dopo e avere successo bruciatori condizionatori trattamento acqua e avere successo automobili e avere successo oliodinamica e avere successo ultimo o meno importante vino e avere comunque sia un discreto successo anche lì è saltare sono tutte industrie però saltare da un campo all'altro non è una cosa così scontata quindi grande creatività che poi mio padre ovviamente ha trasformato col suo stile e col suo modo di fare mentre teneva intanto gestiva le altre due che erano rimaste all'epoca dopo la cessione della trattoria e delle automobili wow complimenti alla fine si può dire che sono completamente diversi come settori ma i Lamborghini quando si mettono in testa una cosa io credo che la facciano funzionare io la chiamo tigna nel senso che finché non la portano avanti insomma non moglie qual è secondo te io ho visto questo mentre parlavi ma qual è secondo voi secondo te scusami che avete sia tu che tuo padre e aveva tuo nonno la caratteristica principale per fare così tanto per avere così successo perché poi il successo è relativo nel senso che per ognuno è diverso e nel successo si sa che ci sono gli alti e bassi sicuramente non è che tutto esplode tutto facilmente così però qual è secondo te la caratteristica più importante per far bene tutte queste cose trovare una una risposta semplice e un un fattore solo penso sia impossibile credo però che un fattore comune a tutte le imprese di successo sia sapersi circondare delle giuste persone a tutti i livelli un buon mettiamola così capitano l'azienda leader credo debba da una parte avere le competenze proprie ma cercare di circondarsi di persone che sono più brave e competenti di lui so che può sembrare un po' una sua però la forza del leader è saper guidare un bel pacchetto di talenti un bel pacchetto di skills se possibile anche superiori a quelle che di cui dispone il leader stesso quindi quello penso sia la chiave di tutto mio nonno da questo punto di vista è stato un grande visionario ma altrettanto è stato consapevole che senza alcuni geni che ha avuto la fortuna anche di pescare quindi lì è anche una questione di intuito di fiuto probabilmente non sarebbe capitato quello che è successo quindi una grande storia imprenditoriale wow e tanto per capire quante persone avete adesso in azienda? ma noi siamo relativamente leggeri come headquarter siamo 25 al momento e posso chiederti quanto fattura l'azienda? al momento siamo sui 6 milioni adesso vediamo come chiudiamo quest'anno però tendenzialmente battiamo sui 6 milioni che mi rendo conto può sembrare anche una cifra abbastanza risicata però è anche figlia del business model che mio padre ha voluto perseguire negli ultimi 20 anni in particolare e quindi se guardiamo al volume d'affari al giro d'affari siamo un po' più su però come headquarter non abbiamo evidenza di numeri eclatanti ok chiaro e quando intendi che tuo padre ha voluto impostare così intendi per il suo lifestyle per il vostro lifestyle intendo che devi considerare che io sono il primo genito e sto per compiere 33 anni e mio padre ne ha 76 quindi c'è un gap abbastanza importante si è divertito fino a oltre i 40 quindi mi ha avuto a 43 e tu sei primo genito? sì primo di 5 e attorno al 2002 2003 mio padre comunque sia gestiva la calor quindi bruciatori condizionatori trattamento acqua e la oleodinamica già da ormai 25-30 anni dal momento in cui mio nonno aveva deciso di ritirarsi in Umbria a tenere dietro la tenuta vitivinicola quindi era un po' stanco della vita da industriale e ha deciso quindi poi di cederle aziende e si è tenuta la tonina Lamborghini però in quel momento lì avevo poco più che 10 anni lui comunque sia come per tutti il cronometro scorre il calendario pure gli anni avanzavano e non se la sentiva di mantenere un grado di rischio molto alto diciamo all'interno dell'azienda perciò ha preferito diversificare un po' alcune attività le gestiamo direttamente magari con un grado di rischio un po' più ridotto il licensing invece che per certi aspetti ha un grado di rischio minore per l'headquarter poi bisogna controllarlo molto bene è un grande lavoro anche seguire e dare un'impronta al licensing importante e seguirla bene però è ovvio rispetto a dire ho un prodotto che gestisco in house e se non va bene poi mi ritrovo col magazzino pieno e così via il licensing concede un minimo più di elasticità e in quel periodo storico mio padre ha dovuto fare qualche considerazione non era pronto a far entrare qualcuno per per dargli che fosse il suo successore ma semplicemente perché non c'era l'età sono arrivato un po' tardi adesso poi dopo dal 2015 quando sono entrato abbiamo iniziato a diversificare un pochettino sempre con cercando di avere un buon senso da buon padre di famiglia e senti grazie per ovviamente aver condiviso questa cosa e senti tu adesso che posizione occupi in azienda Natalia ora sono vicepresidente fino all'anno scorso ricoprivo anche la carica di amministratore delegato ho dovuto un attimo abbandonare la carica per qualche vicissitudine fisica che mi ha un po' destabilizzato e quindi non potevo dare il giusto contributo e onorare la posizione e le responsabilità che ne derivano quindi ho dovuto prendere qualche mese di pausa mio padre giustamente ha dovuto un attimo rivedere l'assetto e prendere qualche decisione e sono rientrato a partire da giugno però passo dopo passo spero di poter ridare il supporto a 360 gradi ora mi occupo più di due o tre linee di business ok fantastico e ad oggi qual è della vostra della vostra linea quella che spingete di più che volete spingere di più da una parte il real estate perché è un trend importante che abbiamo iniziato a vedere da partire in particolare dalla fine della pandemia o meglio della prima parte della pandemia nel 2020 quindi nei vari mercati internazionali il concetto di di benessere a casa è cambiato il percepito proprio del valore di un immobile con determinate caratteristiche o altre è cambiato e quindi è un mercato molto frizzante in questo momento qua e penso che ci sia anche da parte nostra la possibilità di dare un contributo concreto perché al di là del building poi bisogna creargli lo stile bisogna creargli il living l'interior insomma ci sono tanti elementi su cui poter lavorare col design e con prodotti di alta qualità quindi questo sicuramente è un settore sulla quale stiamo spingendo per ora per il futuro sugli accessori occhiali orologi ovviamente sono quelli che rappresentano un po' il nostro storico il nostro DNA e hanno anche un carattere un po' meccanico l'orologio in particolare perché comunque sia col movimento ricorda molto Lamborghini sì diciamo che penso sia il rappresenti l'equilibrio tra la parte più fashion moda di mio padre con l'heritage invece della generazione precedente di mio nonno senti parlando di tuo nonno quando è che ha venduto l'azienda le quote aziendali tra il 72 e il 73 e si può dire l'operazione non so se è pubblica si 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 è pubblico è pubblico ok per quanto per quanto ha venduto questa la cifra dici quella non la so nemmeno io ok no non la so e da qui poi ma ti posso dire che ha fatto benissimo ha fatto benissimo tutti mi chiedono spesso come ma non ti dispiace è ovvio prima di tutto bisogna dare atto che la Lamborghini è quella che è adesso perché dal 98 c'è l'Audi bisogna riconoscerelo e quindi heads off tanto di cappello e però magari non sapendo tutti i passaggi potrebbe dire è un peccato dai se avesse ancora tenuto l'azienda il timone magari adesso tu avresti un altro tipo di vita con i 6 massima con i 6 ma però uno deve pensare invece qual era il contesto dell'epoca le rivoluzioni post 68 la crisi petrolifera e il fatto che tutti gli altri hanno venduto Ferrari ha venduto Maserata ha venduto la Rolls Royce è rimasta in piedi per miracolo insomma tutti i grandi brand del mondo del lusso comunque sia delle sports car in quel periodo lì piangevano e mio nonno si è dovuto guardare allo specchio e dire i casi sono due o mi prendo un rischio incredibile con tutto questo tumulto e magari ci rimetto anche la casa oppure sapete che c'è purtroppo in questo periodo storico ci vogliono nuove ci vogliono nuovi assetti nuovi capitali quindi gioco forza ha dovuto prendere la decisione più sensata perché adesso staremo parlando lanciando la moneta 50 e 50 o di una storia di successo o di una nobiltà decaduta esatto non sai lì come può essere andata a finire giustamente e comunque tanto di cappello e senti la storia raccontata da te perché più bene una storia io la so a grandi linee ma raccontata da te di tuo nonno tu come te la sei sentita raccontare quando eri più piccolo in generale ah beh mio padre ovviamente e qualche operaio adesso sinceramente poi non so chi ancora è vivo chi ancora non c'è più però da quando ero bambino ogni volta che c'era un raduno quando c'era raduno di autostorica anche non Lamborghini perché mio padre è sempre stato molto appassionato e quindi lo seguivo il più possibile però in generale tutti quelli che hanno avuto la possibilità di conoscerlo o di stare accanto a lui lavorativamente o personalmente mi raccontano appunto di un ragazzo di umili origini noi siamo comunque sia una famiglia mio bisnonno erano agricoltori benestanti però certo medio non eravano né nobili né facevano la fame medio riuscivamo a toglierci le soddisfazioni minime dell'epoca primo genito anche lui ovviamente la tradizione avrebbe voluto che poi mio nonno seguisse il bisnonno nei campi invece sin da giovane giovane intendiamo dieci anni otto anni ha dimostrato che non era interessato al mondo dei campi piuttosto alla meccanica e quindi scuole professionali terminate le scuole professionali ha iniziato a fare esperienza nelle varie officine fabbro e così via poi la guerra che gli ha dato l'opportunità di aumentare esponenzialmente le sue conoscenze in campo tecnico meccanico era capo ufficina del reparto del reparto riparazioni alla base di Rodi e da lì un po' il fatto che era un uomo abbastanza astuto era un ragazzo sveglio diremmo noi e in più aveva anche delle competenze e rientrato ha detto cosa posso fare per la mia terra e l'Italia doveva ripartire come rimetterla in moto cerchiamo di rimettere in moto quantomeno l'agricoltura quindi un uomo che viene a un'estrazione agricola quindi sa le necessità dell'agricoltore del lavoro dei campi però vuole proporre non una nuova tecnica per buttare giù i semi ma diciamo ok ti do il veicolo ti do il mezzo per fare la tua svolta e di avere un nuovo capitolo e da lì è nata la Lamborghini esistevano già i trattori? beh sì però all'epoca i trattori che si potevano trovare in Italia erano abbastanza obsoleti dal punto di vista tecnologico mio nonno sapeva invece che i prodotti esteri in particolare diciamo tedeschi e prodotti che potevano essere derivati dalle tecnologie degli Stati Uniti mancavano cioè l'estero era molto più avanti di noi però per fortuna finita la guerra c'erano tantissimi residuati bellici disponibili che potevano essere comprati nemmeno a unità ma a metri nei cosiddetti campi Arar e e niente mio nonno ebbe l'intuizione ha detto ma se io prendo sostanzialmente l'ex Jeep Willis il motore Morris lo trasformo da benzina faccio in maniera che vada petrolio ho un motore cambio differenziale insomma faccio tutte le modifiche del caso per renderlo robusto e adeguato al lavoro nei campi e tiro fuori un trattore economico al passo con i tempi e robusto e così ha fatto e poi con questo se non sbaglio è andato in banca hai chiesto guarda ho sta roba qui fighissima finanziatemi così creo qualcosa non solo in banca ma prima dal mio bisnonno perché lui sapeva che c'era i risparmi di una vita sapeva all'incirca la somma e allora ha iniziato a a battere dai uno dai due dai tre dai prestatemi prestatemi però il bisnonno ma se io li presto a te poi dopo cosa rimane agli altri quattro perché io sono il primo di cinque mio nonno anche è stato il primo di cinque cosa rimane cosa rimane mi bacerei i gomiti mi bacerei i gomiti diciamo che sono di sicuro già due o tre anni di ritardo perché mio nonno ha creato la la trattori ha iniziato sostanzialmente nel 46 47 quindi io devo devo accelerare i tempi anche solo per arrivare ad un per cento di quello che ha fatto ha iniziato molto presto sì e e ti dicevo appunto mi sono perso un attimo stavi dicendo ah ha prestato i soldi sul papà e poi una mattina si è svegliato e vede nel campo una grandissima croce fatto con due tronchi questa croce il bisnonno la bisnonna niente abbiamo deciso di darti il la somma i risparmi di tutta la famiglia che era un po' come dire la croce addio non li vedo più e invece questo cosa intendi la croce cioè l'hanno trovata immagini che ti svegli apri dopo che hai sorseggiato un caffè apri la finestra in cucina e vedi il prato e una grande croce una croce di legno una croce di legno tipo come simbolo per dire ormai questi sono buttati addio famiglia x sopra e invece questo più un aiuto sotto ovviamente dure clausole comunque sia della della cassa di risparmio di 100 mio nonno è partito e nel giro di 6-7 mesi ha restituito il prestito wow tanta roba e così è nata la Lamborghini che costruisce trattori esatto la Lamborghini trattori poi da lì quanto tempo è passato prima di cominciare a produrre le Lamborghini 15 anni e nel mezzo un'altra grande realtà una grande impresa la Lamborghini bruciatori perché mio nonno era già diventato un industriale abbastanza affermato negli anni 50 va con una delegazione di altri industriali negli Stati Uniti ha la possibilità di visitare questi grandi colossi dieci volte più moderni di noi per lui ha visto l'America come si suol dire e affascinato dai sistemi dai bruciatori condizionatori da queste nuove tecnologie ha detto niente lo devo fare anch'io ha avuto due o tre intuizioni ha parlato con i giusti responsabili all'interno dell'azienda e nel giro di neanche un anno dall'inizio dei lavori è stato aperto un nuovo stabilimento e si è dato vita quindi alla Lamborghini bruciatori qui siamo nel 59 59 e poi 63 invece il colpo arriva come è voluta prima di passare al colpo nel 63 però come come si è voluta la Lamborghini bruciatori poi nel corso del tempo ah beh è stata una grande una grande azienda fino a che mio padre ha deciso appunto di venderla come ti dicevo prima si era un po' stufato della vita industriale da oltre 30 anni più anche la giovinezza perché lui è cresciuto all'interno delle aziende quindi capisco che dopo circa 60 anni che in un modo o nell'altro sei sempre lì vedi sempre dei capannoni e sei sempre a fare l'industriale magari ti sei anche un po' stufato però è stata una grande azienda e adesso non vorrei dare un dato leggermente scorretto però ecco ricordo mio padre mi ha sempre detto che dopo l'ariello a livello di qualità a livello di capillarità sul mercato insomma sia in Italia che in Europa eravamo nei primi se non eravamo sul podio eravamo mal che vada nella top 5 quindi siamo stati una grande realtà poi dopo è stata acquisita dal gruppo Ferroli e quindi da quel momento lì poi dopo non siamo più coinvolti tanta roba e poi arriva la 63 il momento dell'elaborgine da come nasce questa roba questa cosa questo pallino se vogliamo possiamo chiamarlo così non lo so sì 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 per certi aspetti sì beh la leggenda è abbastanza famosa che poi leggenda una leggenda è quando non è vero quindi questa è reale questa è reale mio nonno appassionato di meccanica di tecnica ovviamente era appassionato anche di tutto ciò che era abbastanza performante quindi due o quattro ruote quando c'era qualche qualche novità sul mercato lui cercava sempre di 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 buttarci l'occhio eventualmente anche il portafoglio e però grazie ai successi della Trattori negli anni 50 a fine degli anni 50 si era iniziato a togliere qualche sfizio tra questi sfizio due Ferrari 250 GT e era solito trovarsi ogni tanto con piccoli bug tipo un iPhone che non funziona no no diciamo quello sì il problema era soltanto la frizione in questo caso specifico però come è venuto fuori il problema è che si ritrovava nella area del Cantagallo che è una famosa stazione di servizio nella nella tratta da Bologna a Firenze a tornare indietro e con altri proprietari di auto sportive insomma davano qualche tiratina se volessimo sintetizzare con un termine negativo gare clandestine altrimenti termine positivo Cars and Coffee no ok in questo caso qua magari era Cars and Camogli non so se l'avevano già tirato fuori però diciamola così e spesso tornava a casa con la frizione bruciata o comunque sia che non era non andava bene ci dà un'occhiata e sostanzialmente rileva che la frizione utilizzata da Ferrari era pressa poco la stessa che era montata sui trattori Lamborghini anzi la stessa leggermente più robusta leggermente adeguata al tipo al campo d'utilizzo diverso però ho detto aspetta un attimo primo la mia dovrebbe essere più robusta adattiamola secondo come spare parts sappiamo che i listini e le marginalità sono un po' diverse quindi vediamo prova problema sparito allora magari fare due discorsi con Enzo potrebbe essere non sarebbe male chissà che magari non viene fuori una partnership questo era lo spirito andò da Maranello fece più di un'ora d'anticamera già la cosa non gli piacque molto perché nulla a togliere al Drake però a livello era conosciuto sì se facciamo una questione di dimensioni di realtà imprenditoriale beh la Trattori era comunque sia niente meno che la Ferrari probabilmente era più grande però non aveva il blasone di Ferrari per carità di Dio la chiacchierata non è andata bene nel senso che una volta manifestato il problema e la soluzione che era stata trovata Ferrari non non ebbe una risposta felice o per certi aspetti possiamo considerarla la risposta più felice del mondo perché è stata quella che poi ha scatenato la scintilla che ha portato a mio nonno a voler fare le automobili e cioè Lamborghini lei non è capace di guidare le mie auto al massimo sarà capace di guidare i suoi trattori come si dice da noi benessum tempo qualche settimana sai cosa la faccio da solo tempo qualche settimana e ha trovato tutte le persone di riferimento per far partire il progetto e via così è stato e da lì dopo quanto l'ha lanciato il progetto quanto è stato cioè la prima Lamborghini nove mesi nove mesi nove mesi è il primo prototipo è poco come un bambino sì giusto e quindi però ecco un conto è fare un prodotto questo è quello che vediamo noi e che si sa nell'imprenditoria un conto è fare un prodotto è un conto è portarlo a determinati risultati sì e secondo te qual è stata la differenza da creare il prodotto in tutte e tre sia trattori che bruciatori che poi Lamborghini insomma ha fatto la stessa cosa in tutti i tre casi il tuo nonno quindi ha creato dei prodotti voi lo state facendo adesso nella moda nell'estate tutto il resto ma secondo te in quel caso per la Lamborghini visto che c'era un concorrente forse ecco la rivalità ormai no che è nata in quel giorno forse potrebbe essere però qual è stata la cosa che secondo te è un conto creare la macchina è un conto farla esplodere come brand ti rispondo con una una sorta di insegnamento oppure regola abbastanza importante che mi ha trasmesso mio padre e che mio nonno ha trasmesso mio padre e cioè non innamorarti mai del tuo prodotto quindi sembra che ti sto rispondendo più sul prodotto anziché sul fare impresa ma in verità le due cose sono molto legate e cioè cosa si cela dietro la frase non innamorarti del tuo prodotto e cioè non rischiare di essere accecato da quello che stai facendo e dal fatto che ovviamente ci investi passione tempo eventualmente anche denaro è un attimo che uno si innamora di quello che sta facendo o del prodotto io come si dice ogni scarafone bella mamma zoa lo stesso vale per ciò che il tuo prodotto la tua azienda produce che sia un prodotto o un servizio però l'importante è riconoscerne la bontà riconoscere che si è fatto un buon lavoro riconoscerlo a tutti i collaboratori ma non esserne innamorato nel momento in cui dici è venuto sì bello come volevo complimenti a tutti ma andiamo oltre lì crea impresa e cioè non bisogna mai sedersi per certi aspetti bisogna fare in maniera che ovviamente in maniera sostenibile la sticella venga portata sempre più in alto ma non soltanto per una questione di posizionamento non è una questione legata a un numero a un dato economico è mentale è una questione concettuale cercare di dire ok abbiamo fatto un buon lavoro ma non dobbiamo accontentarci di questo dobbiamo cercare di di sfondare ancora più in alto e di di essere molto esigenti con noi stessi ecco questo è quello che secondo me lo ha portato appunto a riconoscere i giusti talenti e a coordinarli nella maniera corretta e dall'altra parte appunto a mantenere viva la sua curiosità e la sua apertura mentale che lo ha portato a differenziarsi a diversificare diciamo il brand sotto vari profili wow tanta roba è una cosa che dico sempre ripeto sempre perché mi ci sono trovato c'era un momento della mia storia in cui facendo molto più piccolo di tonono chiaramente iper microbo però ad un certo punto credo che questo sia vero a qualsiasi livello quando uno ottiene un piccolo risultato o un grande risultato e poi si ferma è come un elettrocardiogramma cioè se io sono attaccato alla macchinetta e la macchinetta fa così vuol dire che sono morto giusto quindi di solito nella vita o sali o scendi la matura parte delle volte quando ci fermiamo e ci innamoriamo del prodotto e ci sediamo sugli allori su quel prodotto alla fine torno indietro invece di sempre aumentare incrementare mi fa piacere che più o meno mi sembra questo il concetto che ti ho detto sì 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 sono assolutamente d'accordo è una cosa è una regola base della vita e sentiti voglio fare un'altra domanda qual è il diciamo il mondo in cui sei nato perché sono molto curioso tu prima ti facevo un complimento prima di iniziare questo podcast questo episodio e tu mi hai detto sono figlio della fortuna che non è affatto così nel senso sì uno può nascere in un ambiente fortunato ma c'è chi poi continua quella fortuna e poi chi la chi la manda in malore in alcuni casi oppure chi vero chi ne fa un pessimo uso ma a prescindere da quello com'è nascere nell'ambiente in una famiglia così conosciuta così importante a livello proprio nazionale internazionale scusami non nazionale ma internazionale beh devo ringraziare i miei genitori perché da sempre da che ho ricordi hanno sempre cercato di anzi ci hanno imposto parola plurale perché vale lo stesso anche per le mie sorelle una vita normale abbiamo frequentato le scuole pubbliche e vabbè io poi ho dovuto a liceo andare al privato perché stavo correndo in moto e quindi avevo un po' di problemi con le assenze era motivo sportivo per quello adesso parliamo anche di questo ok no beh scherzo a parte della parte sportiva però no sempre ci hanno fatto capire che dobbiamo essere grati per la grande fortuna di essere nati c'era un'occasione su 7 miliardi e c'è capitata quindi dobbiamo essere grati e consapevoli di questa fortuna del cognome che portiamo del fatto che ci sono anche derivano anche dei doveri impliciti più espliciti sta poi all'etica di ciascuno di noi come come metterli in pratica però ecco il più possibile i normali io personalmente ho iniziato a capire quando ero piccolino che che mio nonno o comunque sia che il nostro cognome era conosciuto ai più però non avevo pensato a come in un'ottica né legata al denaro né legata alla nobiltà presunta o meno cose del genere ecco quindi nulla di legato a argomenti futili no per me era mio nonno è stato un ragazzo che aveva delle buone intuizioni e che aveva degli ottimi amici sostanzialmente è un po' come è un po' la favola la favola che ci è stata raccontata no da da bambini quindi cercare di curare delle buone amicizie cercare di avere gli occhi aperti cercare di avere degli interessi tutto il più normale possibile infatti se devo dire la cosa di cui sono più contento di cui sono più inorgoglito sono i miei amici ho un gruppo di amici che si contano in due mani siamo noi storici da 20-25 anni e siamo tutte persone normali non ci sono differenze io ok ho quel cognome lì però una volta che mi sono presentato come ferruccio è finita lì non devo presentare altro assolutamente bellissimo e senti ho una curiosità questo non mi sono confrontato con Mattia ma tu sei di base a Milano no no io sono un po' l'accento tradisce sono di Bologna sei di Bologna anche se con l'accento si sente però con orgoglio sono di Casalecchio di Reno ci tengo a precisarlo perché è il miglior comune della provincia di Bologna devo dirle le cose come stanno sono molto fortunato questo lo mettiamo come reel lo facciamo girare mi ritengo molto fortunato abito in un posto bellissimo wow e anche proprio in generale la città di Bologna insomma è bella stiamo bene stiamo bene Bologna è una bella città e senti un'altra domanda tu prima hai parlato questa è un'altra cosa che mi interessa molto di leadership di essere un leader e molti secondo me in azienda non molti lo dico anch'io secondo me in azienda nella mia azienda perlomeno è la parte più difficile cioè gestire le persone sviluppare le persone ed è quella dove investo di più sia in mentori sia in studio sia in prove sul campo eccetera voi avete dei mentori cioè tuo nonno si ispirava a qualcuno seguiva qualcuno ma mio nonno non te lo saprei dire tuo nonno tuo padre tu stesso insomma per me mio padre credo che viene abbastanza difficile trovare qualcuno di diverso dal nonno o meglio in virtù del fatto che mio padre ha avuto suo padre e io ho mio nonno e mio padre siamo affascinati dai grandi industriali i Ciro Honda Ford insomma chi ha fatto grandi industrie chi ha creato posti di lavoro ovviamente possibilmente anche aziende virtuose perché non tutte le grandi imprese sono virtuose dalla punta alla base della piramide però in generale il creare impresa quella è una cosa per me estremamente affascinante e quindi di conseguenza sì il paragone col nonno o meglio la figura del nonno è così impattante che oscura un po' il resto del panorama d'altro canto però invece posso risponderti per me trago molta ispirazione dallo sport o meglio mentori per me possono essere un Ayrton Senna un Kobe Bryant e in generale lo sport che ho praticato il motociclismo il motociclismo per me è stato è stato il mio mentoring process da tutti i punti di vista tutto ciò che penso di aver imparato o che umilmente cerco di portare in ufficio lo devo in grande parte a livello diciamo di leadership non saprei dire perché sta agli altri giudicare se sono un leader o no però nel modo in cui vorrei che le cose venissero fatte lo spirito di gruppo e tutto l'ho imparato lì e guarda mi ha anticipato una domanda perché era proprio quello che ti avrei chiesto come lo sport ti ha aiutato di qua perché io ho giocato a calcio dilettantistici quindi campionati promozione prima categoria così quindi molto molto dilettanti però quello mi ha forgiato molto dal punto di vista della squadra di avere un team e noi abbiamo un team oggi di 60 collaboratori ed è un team molte delle regole che ho preso nel calcio le applico qui oltre a studiare di mentor eccetera e quali sono le analogie che tu hai portato dallo sport insieme alla leadership all'applicazione del business quali utilizzi tutti i giorni nel business parto col dire che il motociclismo viene erroneamente considerato uno sport individuale nulla di più sbagliato è uno sport di squadra a 360 gradi tanto quanto il calcio il basket tutti gli altri sport questo perché lo dico perché le dinamiche che portano poi al successo del pilota e della squadra prima di tutto sono contraddistinte da un fatto cioè tutti sono di pari importanza e responsabilità è ovvio ci sono alcuni incarichi che hanno una responsabilità più alta sulla carta a livello tecnico il motorista sicuramente deve essere un pochettino a un grado di responsabilità più alto di chi invece si occupa soltanto di fare il cambio delle gomme però se il motorista fa bene il suo lavoro e quello che invece deve cambiare le gomme lo fa male il risultato non arriva ma anche viceversa quindi la responsabilità è uguale per tutti poco importa se sei il componente on top della piramide o alla base e il pilota può essere talentuoso quanto vuole però se non fa il giusto lavoro di squadra con i tecnici con il manager con tutti il risultato non arriva il cronometro non tradisce mai una legge quindi non sbaglia non sbaglia e quindi deve esserci veramente una chimica e il rispetto totale del lavoro altrui questo anche il pilota in primis anzi il pilota deve cercare di essere consapevole di questo fai una scivolata ok la prima cosa a cui tutti teniamo è non ci siamo fatti male però la seconda cosa è speriamo di non aver fatto gravi danni alla moto non solo per una questione economica ma anche perché dobbiamo far spezzare la schiena a dei meccanici che sono lì per te e se tu vinci loro non si prendono sì tutti ci godiamo di una vittoria ma chi sta sotto i riflettori è il pilota quindi la stessa cosa succede attraverso l'impresa il leader probabilmente è quello che oltre a prendersi le responsabilità per tutti poi dopo gode in prima in prima linea dei successi e sotto i riflettori però deve essere fatto tutto con grande rispetto perché è una vittoria di gruppo e se sei sotto i riflettori è perché anche l'ultimo dei meccanici ha dato il massimo e ha fatto le cose giuste e poi questo diciamo dal punto di vista di organizzazione del lavoro questa è una bellissima metafora della leadership questo è un po' diciamo dal punto di vista di organizzazione di un team poi c'è anche invece l'aspetto proprio legato alla guida perché come ti dicevo tu puoi essere un grandissimo talento ma se poi dopo rientri ai box e eri accecato dalle emozioni dell'adrenalina e quindi non hai considerato non hai fatto troppo caso a cosa stavi facendo non riesci a riportarlo ai tuoi tecnici i tuoi tecnici di conseguenza non hanno le istruzioni giuste per modificarti il setup tu magari rientri ti nervosisci diventando più contratto guarda caso quella curva non la fai più come prima ed entri in un loop negativo quindi in generale a me piace sempre dire che ci vuole il giusto compromesso le vittorie facili non esistono chi ti dice che avremo successo in due secondi è una balla chi ti dice vinciamo facile è una balla chi ti dice sei il più forte in tutti i campi è una balla bisogna avere un compromesso come ottenerlo queste due cose che ti raccontavo legate al motociclismo secondo me sono la chiave o meno l'unica chiave che conosco per cercare di mandare avanti l'attività ha detto niente ha detto due super metafore ha detto queste sono da prendersi appunti mi sono presi appunti mentali poi dopo li riscrivo mentre parlavi perché è fantastico è molto è bellissimo come lo sport è incredibile come lo sport alla fine i grandi campioni nello sport sono come degli imprenditori il mindset la mentalità la disciplina il fatto di capitalizzare il lavoro di una squadra perché se uno cade fa una scivolata oltre a capire come ridurre i danni non farsi male chiaramente ma come ridurre i danni per il team sa anche che quando scivola va a vanificare un po' il lavoro di una squadra va a vanificare l'investimento della società insomma tutto quanto quindi questo è molto bello perché ognuno ha la sua responsabilità e senti tu hai vinto anche un campionato di moto 2 giusto? nel 2012 quanti anni avevi lì? 21 21 anni ci puoi parlare un po' di questa esperienza? ma lì devo essere sincero è stato il campionato più facile o meglio il livello non era altissimo perché eravamo in pochi partecipanti purtroppo quell'anno lì però mi piace pensare che sia stata una ricompensa che il destino mi ha voluto dare per tutti quelli che ho perso gli anni precedenti che magari potevi vincere sono stato proprio un pirla non stavo per dire qualcos'altro no me li sono proprio giocati con le mie mani quindi un po' di sfortuna un po' di incapacità nel mantenere il sangue freddo in alcune situazioni mi sono fatto prendere un po' dalle emozioni di conseguenza due scivolate zero punti e poi la classifica parla chiaro e non ultimo nel 2011 proprio perché nel 2009 e nel 2010 avevo buttato all'aria io i campionati ero pronto a vincerli poi uno finito secondo l'altro terzo ma colpa mia nel 2011 mi ero fatto un inverno perfetto ero stracarico straconcentrato ho detto ok adesso non può esserci il 2 e il 3 deve esserci che non c'è due senza tre no c'è solo due e il terzo diventa un titolo alla prima gara mi rompo la clavicola tra l'altro ho avuto anche poi qualche ripercussione un'infezione insomma non è stata proprio una clavicola così facile ci sono rimasto malissimo e nel 2012 per fortuna mi sono ripreso mi sono ripreso bene ho fatto comunque sia dei discreti risultati a livello di tempi non è che andavo a spasso però avrei preferito probabilmente vincere quello del 2009 o del 2010 era un po' più combattuto però sapevo che le mie opportunità come pilota erano ormai all'umicino sapevo che forse era l'ultimo anno forse era il penultimo ho detto vabbè dai il destino mi ha voluto dare una piccola ricompensa per quello che non ho ottenuto prima poi tu sei anche ho letto un istruttore DRE Ducati Riding Experience da quando ho smesso con le corse ho avuto la fortuna di essere inserito nel programma istruttori e quindi ogni tanto quando il lavoro me lo consente sono in pista anch'io e cerco di dare il mio supporto per migliorare le performance di guida degli appassionati Ducati wow e oltre a questo tu gareggia ancora? no 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 ho avuto il livello di divertimento ogni tanto così come ti dicevo l'ultima stagione è stata nel 2014 poi sono entrato ufficialmente in azienda nel 2018 sono andato a vedere un po' di gare trovare un po' i miei amici una battuta di qua una battuta di là mi ha fatto venire un po' la voglia e allora mi sono detto beh però aspetta tutto a livello di workflow in azienda era tutto liscio mi sono fatto due conti ho detto ma sono sei weekend più mettiamoci due test quindi otto weekend se per otto weekend salto il giovedì e il venerdì non so non è che in azienda succede niente insomma siamo tutti abbastanza collaudati farò una telefonata un po' più lunga alle sei o una alle otto di mattina ma si fa ma l'ho detto ma dai riproviamo che errore nel senso lì ho capito che conciliare lavoro e sport no o meglio o uno ha veramente proprio il bottone on off e magari anche quelle teste un po' insomma che riescono a fregarsene io purtroppo non sono quel tipo di persona o è meglio che lasci stare perché nelle situazioni in cui avevo o un'agenda scarica in quella settimana e magari quella successiva o eravamo prossimi alle ferie di agosto polso lo aprivo ancora bene ho fatto dei bei tempi mentalmente eri più tranquillo sì sì ero liscio andavo danzavo quindi ho fatto dei bei tempi mi sono anche inorgoglito di quello ma quando invece avevo dei pensieri per la testa mi potevi fare l'assetto così 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 niente diciamo che sono due lavori lavori da fare nel senso ti racconto un adeduto perché per me è stata una liberazione nel senso facciamo la gara di fine luglio l'azienda settimana dopo era l'ultima settimana eravamo praticamente già tutti in ferie e allora ho detto dai posso veramente guidare a mente libera ho fatto una bella gara vado in vacanza convinto ho detto dai adesso metabolizzo ancora di più tutti mi stanno tornando i movimenti a settembre faccio un finale di stagione della madonna e arriviamo al Mugello dato che dovevo fare un viaggio rapido per un lancio poi avevo il lancio della collezione orologi da lì a tre settimane ero obiettivamente oberato e c'erano tante cose che dovevo seguire niente non andava però ho detto è stato un weekend sfortunato due weekend dopo dobbiamo andare giù a Roma a Vallelunga niente quando faccio così vuol dire metti l'assetto in un modo metti l'assetto in un altro non scendevo giù di quel tempo partiamo ero terzo ultimo direi vedo tre giri al termine mi guardo dietro ero ultimo e ti giuro non ho mai completato una gara neanche quando forse in minimoto quando ho fatto le wild card al mondiale sì dato che ero abbastanza scarso sì ho fatto ultimo però a livello italiano non ho mai finito una gara ultimo allora gli ho detto no piuttosto la lancio in terra ma non lo posso tollerare questo avevo due ragazzi davanti all'ultimo giro ho sorpassato entrambi e quando sono arrivato davanti al traguardo ho guardato il tempo sul giro e gli ho detto no ci posso credere e per farla facile in qualifica avevo fatto un minuto 41 e mezzo 42 e mezzo questo giro con 18 giri stanco due sorpassi e gomma finita quindi è proprio una questione anche ma la vuoi di non arrivare ultimo ho fatto 42 e 0 o 41 e 9 insomma ho tirato giù tantissimi decimi che di solito la qualifica è sempre più veloce della gara invece ho fatto il contrario all'ultimo giro per un moto d'orgoglio quando ho visto questa cosa qua ho detto pensa a te giuro ho sorriso ho detto allora è la testa e sono tornato a casa sereno ho detto c'è un tempo per tutto io mi sono tolto le mie soddisfazioni mi devo baciare i gomiti c'è chi andrebbe via venderebbe la mamma la nonna o la zia per poter dire di aver fatto qualche gara al mondiale io per fortuna le ho fatte va bene così c'è un tempo per tutto la mia testa mi dice che adesso devo seguire l'azienda e altrimenti non si spiega un secondo quasi un secondo più veloce all'ultimo giro wow fantastico questo spiega veramente molto bene come funziona la testa questo anche in un imprenditore insomma se uno io faccio sempre questo esempio che tu hai fatto tu hai fatto tra sport e impresa io lo faccio tra casa e impresa perché anche se uno ha problemi a casa se uno è disallineato col marito con la moglie con i figli ha problemi e non sistema anche magari problemi di salute nel senso problemi di benessere più che salute nel senso mangiare bene tu sei uno sportivo quindi capisci bene anche questa parte insomma la sai bene la puoi insegnare non solo capisci ma alla fine anche di qua si scompensa perché deve essere tutto insieme ti capisco sono pienamente d'accordo è il motivo per cui dopo gli effetti a lungo termine diciamo così dei due pneumotoracci che ha avuto ho deciso che non potevo mandare avanti o la salute è una ripresa completa della salute o mantenere il lavoro ma facendolo male quindi no no per un momento c'è bisogno di staccarsi assolutamente concordo e senti parliamo dei Lamborghini perché io so che tu sei affezionato delle macchine quali sono diciamo intanto la Lamborghini più la tua preferita mettiamola così non posso che risponderti la miura la miura di mio nonno poi in particolare tu possiedi la miura di tuo nonno ancora sì mio nonno ha voluto a testamento che io fossi il proprietario quindi a 18 anni mi sono arrivate le chiavi e come la tieni lì da una parte la lustri bene oppure la prendi no no è al nostro museo dove c'è tutta la storia di mio nonno dal primo trattore a tutte le auto della nostra produzione bruciatori anche insomma c'è tutto e la uso ma due o tre volte l'anno perché il bene è che sia al museo per i visitatori quindi è più importante che stia lì ah un idato gli fa bene un pochino sì 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 no per carità sì no poi recentemente l'ho portata un po' fuori abbiamo dovuto fare un paio di servizi fotografici però sai quando è così ambita è tutti è un bene comune è come dire che possiedi la gioconda che ne so però per quanto sia tua è giusto che stia qui e che tu gli dia la priorità al pubblico wow e senti io vedo anche che hai tipo una jaguar sì hai sbirciato un po' sul mio instagram un po' di giro sì 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 e poi hai una panda quattro per quarto Sisley sì cosa ci fai con questa panda questa è insomma dalle nostre parti in Umbria io sono umbro no sono infatti parliamo anche di tuo nonno ah ok però insomma si usa per andare noi la chiamiamo la macchia al bosco andiamo io no vanno a fare che ne so i cinghialari vanno a caccia vanno a funghina tu cosa ci fai con questa panda ma prima di tutto era da dappertutto la panda sì 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 è una bomba una bomba mi sono divertito come un matto sulla neve ma diciamo che senza rendermene conto da cinque anni ho capito che mi sta venendo il pallino per il collezionismo e quindi ho iniziato prima con due due masterpiece chiamiamoli così che ha due ruote quindi una una Honda VTR 1000 poi un'Aprilia 250 RS poi ho detto ok voglio voglio pensare a qualche icona perché per me proprio perché ho la fortuna di avere la Miura non vado tanto a pensare ad altre sport car o a pensare al valore economico penso a cosa sono dei miti e la panda è un mito tanto quanto la Miura sono d'accordo e quindi era da quando ero ragazzino che dicevo che bella la Sisley con quel colore con quei due o tre dettagli in più e avevo percepito anche che il mercato stava iniziando un po' a salire allora secondo me è arrivato il momento di cercarne una tenuta abbastanza bene ma che io poi possa sistemare anche un po' così fai da te e me la sono trovata nel 2020 proprio quasi come volevo io quasi in tutto e ci vado un po' in montagna sulla Pennino vado a fare un po' il pirla con gli amici ogni tanto e soprattutto come tu nonno però con la 4x4 con la Panda ma soprattutto me la godo non puoi sapere che soddisfazione mi sono preso in particolare nell'ultimo anno perché l'ho usata un po' di più per andare in centro a Bologna non so al venerdì sera o sabato sera che non si trova parcheggio neanche e li monti dappertutto la metto dappertutto la messa di traverso oppure c'è quel buco che se ci fossi passato con la tua macchina dici cavolo non ci passo invece con la Panda tac e mi sono detto bello così si fa e magari tutte le macchine venissero downsized perché ormai va bene che noi stiamo aumentando però è anche il volume delle auto che sta aumentando poi ci chiediamo perché non ci sono posti auto grazie le auto adesso sono 30-40% più voluminose di quelle di quando la strada è stata concepita è normale che poi si crea in gorgo quindi mi sento un re vado con la Panda anonimo come chiunque altro e vi frego tutti mi ha dato l'idea prendo la 4x4 anch'io se si trova perché non so se si trova adesso e la uso a Milano perché a Milano non c'è il posto lo sai che come sono le situazioni a Milano non so a Bologna più o meno tu parti nel weekend beh io per fortuna abito fuori dal centro quindi non ho il problema di quando rientro a casa però chi abita in centro ma poi andare proprio la sera se uno dice vado in quell'area metà pomeriggio finché metà pomeriggio ok ma dal momento dall'aperitivo in poi auguri poi sai Bologna città gastronomica come lei probabilmente non ce ne sono altre in Italia sì ce ne sono tantissime altre siamo la patria del buon cibo però a Bologna è proprio una capitale e abbiamo tante di quelle ottime proposte varianti che tutti dalle sei e mezza in poi sono in centro è vero anche che siamo una città abbastanza ciclabile però purtroppo le auto esistono ancora e lo spazio è quello che è siamo ancora una città medievale tutto sommato e senti cambiamo un attimo discorso sempre per quanto riguarda i motori ma stavolta elettrici sì voi avete anche un progetto che state implementando in questo momento ce ne puoi parlare? sì è un progetto che sto seguendo direttamente con due partner diciamo un partner asiatico con due uffici uno a Singapore l'headquarter e la ricerca e sviluppo in Thailandia stiamo cercando di far ripartire il marchio ISO che magari ai più giovani non è molto noto perché è un po' di anni che fuori dal mercato però a chi è un po' più agé ricordo Lisetta ricordo il marchio ISO che poi diventò ISO rivolta negli anni 60 autosportive quindi è un marchio che abbiamo avuto la fortuna di rilevare nel 2011 mi siamo 11-12 quindi era nel nostro portfolio marchi ma dal principio mio padre ha detto ok prima di farlo partire atteniamo il giusto momento per l'elettrico perché mio padre dal principio voleva che ripartisse elettrico e nel 2016 facevo mi è capitato poi per caso il pensiero perché mi stavo focalizzando su un altro paio di contratti però dovevo guardare la tabella marchi registrazioni mi sono ricordato che avevamo ISO ho detto aspetta un attimo moto motorini elettrici direi che qualche cosa anche se non sono un ingegnere posso dire allora ho chiesto a mio padre se gli andava bene che io facessi un po' di scouting e vedere se potevo trovare un'opportunità l'ho trovata e allora da quel momento lì poi dopo abbiamo deciso di essere insieme dal punto di vista di gestione del marchio quindi siamo partiti da poco e speriamo a EICMA del 2024 di presentarci con un nuovo modello wow fantastico non vediamo l'ora di vederlo e cosa ne pensi dell'elettrico ci credo è ovvio tra quanto saranno tutte auto elettriche guarda dico una cosa che può sembrare un po' un po' naif forse mai tutte cioè penso che sia forse un po' utopistico però è anche corretto pensare che si debba andare in quella direzione lì è ovvio ho sentito di tutto e di più ovviamente essendo nel settore chi è pro chi è contro i motivi dei pro i motivi dei contro ci sono le N.000 fazioni che si scontrano però in generale io rispondo così e cioè io sono convinto che se avessimo negli anni 1900 1910 diciamo così quando nacque la Ford io sono convinto che se uno avesse avuto Facebook o Instagram o i social media all'epoca sicuramente chi andava in carrozza diceva meglio la carrozza è meglio il cavallo non ho dubbi non ho dubbi però se ragioniamo così allora facciamo che torniamo indietro quando ancora l'ascensore è meglio le scale sì io sono convinto che ci fosse chi diceva è meglio come si faceva prima o meglio la tecnologia che abbiamo questo per dire dobbiamo essere consapevoli dei limiti e delle sfide dei limiti attuali e delle sfide che questa industria deve cercare di di vincere e di rispettare per fare in maniera che veramente il il bene assoluto il goal finale venga raggiunto però sta anche nell'evoluzione umana nulla nasce perfetto adesso quindi dei trattori avete motivo per carità ci sono anche certi dati che vi danno ragione ma a essere solo dei trattori dei trattori rimaniamo indietro al medioevo addirittura feudi cose così mi sembra di no ecco quindi forse tutto 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 elettrico no però bisogna andare in quella direzione lì e ogni tanto qualche imposizione serve ovvio ci sono alcune alcune uscite che sono state abbastanza forti da certi enti o cose così però penso che sia giusto così dobbiamo dobbiamo vederla come una sfida per un futuro migliore perché non sarà sicuramente l'elettrico la soluzione finale ma troviamola almeno troviamola perché non bisogna neanche essere dei come si dice dinosauri no quando uno fa tutto un dramma non bisogna essere catastrofici però insomma troviamoci da fare muoviamoci verso quella direzione poi non sarà quella definitiva da lì se ne apriranno altre come al solito giusto quindi questo che stai dicendo se abbiamo il mindset giusto troveremo le migliori soluzioni per migliorare la tecnologia per magari sostituirla ecco ma se invece pensiamo che quello che c'è è il massimo che si può fare mi sembra un po' limitante assolutamente senti faccio un'altra domanda perché questo è sempre molto interessante c'è stato qual è stato uno due o tre periodi se ci sono stati credo di sì però coraggibito se sbaglio fallimentari periodi fallimentari durante diciamo un po' la storia di Lamborghini sia quella attuale che quella di tuo nonno Ferruccio insomma allora diciamo i più importanti i più importanti i più beh non posso non citare probabilmente il fattore più impattante della storia trattori automobili a inizio anni 70 e e cioè che mio nonno è stato sopraffatto da da tutte le dinamiche dell'epoca ovviamente le rivolte sindacali la crisi petrolifera l'aver all'epoca quantomeno l'aver fatto un po' i media la classe operaia tutti i sindacati aver fatto un po' di tutte le erbe un fascio della figura dell'imprenditore mio nonno ma questo non lo dico io lo dicono o ex operai persone che hanno lavorato con lui mio nonno era uno di loro ok poi era Lamborghini era il leader era il proprietario però era uno che ci sono milioni di foto in internet che andava a sporcarsi le mani che andava a parlare con i meccanici era uno di loro era non non stava dieci metri sopra tutti gli altri e questo è stato per lui un fallimento vedere questo cambio di rotta dal punto di vista diciamo delle classi operaie che hanno iniziato a vedere anche lui non più come un amico come un compagno ma come il capitalista come lo spremi arance le classi operaie tu ti riferisci anche a chi lavorava con lui? sì sì eh beh mio nonno è il motivo per cui al di là della consapevolezza che senza l'ingresso di un nuovo socio o di nuovi fondi le casse erano insomma si doveva guardare al centesimo al di là di quella consapevolezza aveva capito che l'impresa il sogno dell'impresa come l'aveva immaginata lui era morto perché? perché si è ritrovato che ma come siamo amici siamo tutti una grande squadra poi per carità lui sarebbe stato o alcune interviste che diciamo abbiamo noi segrete private di mio nonno che metteremo in questa intervista magari no giuro non mi dispiacerebbe però dobbiamo tenerle per noi in cui lui esprimeva appunto che lui non dava contro a livello concettuale è ovvio che un operaio lui diceva io so quanto guadagna e mi metto le mani nei capelli perché penso io non riuscirei a farci neanche mezza giornata così però d'altro canto se io come impresa sono legato a queste dinamiche ingabbiato a queste dinamiche se faccio degli aumenti di conseguenza poi il prodotto aumenta e di conseguenza non sono più competitivo e non posso pensare di rimanere in piedi solo col mercato domestico devo pensare all'export quindi vorrei tanto fare qualcosa di più ma se la situazione macroeconomica non me lo concede è la barca dove erano tutti i preditori non lo dico per santificare mio nonno perché magari qualcun altro potrebbe dire il proprio nonno era sempre l'amico compagnero no questo lo dicono chi mi ha portato il ricordo perché io purtroppo il nonno l'ho visto soltanto per due anni e non ho i ricordi e poi è morto e quindi sentirmi dire queste cose da chi in un certo senso dice se non avessimo avuto l'irruenza dei giovani e della rivoluzione costi quel che costi effettivamente sicuramente arrivarono poi i fondi furono placate alcune rivolte però mancava l'intuizione mancava la leadership mancava tutto e infatti gli anni 70 insomma non sono stati degli anni così floridi floridi per la Lamborghini Automobili ma anche gli anni 80 come dicevo qualcosa è iniziato a cambiare quando arrivò la Chrysler fino agli anni 80 poi un quadriennio un po' eclettico 94-98 e poi dopo c'è voluta l'Audi per farla decollare di nuovo e senti prima mi hai parlato Ferruccio di quando hai avuto un problema fisico che da D si è dovuto fermare un attimo nell'azienda di tuo papà e ci puoi raccontare un po' di quel momento come è andata? diciamo che me la sono vista brutta in un'occasione che purtroppo sono diventate due nel senso che durante il matrimonio di mia sorella Elettra di punto in bianco sento un dolore dietro la spalla che poi si acuisce a cui dopo seguono dei dolori intercostali insomma ero uno strazzo però ero anche convinto che fosse così un calo dello stress l'umidità del lago di Como la tensione l'abito nuovo insomma fatto sta che invece avevo uno pneumotorace che io non sono un medico e non mi voglio neanche non voglio milantare di ho competenze che non ho però per farla facile è il collasso del polmone distacco del polmone dalla pleura e il polmone inizia a deperire E come è caduto questa roba? Ci sono due o tre varianti dello pneumotorace ho avuto lo spontaneo e quindi ci sono una serie di fattori che possono aver influito però una risposta univoca non c'è o quantomeno mi è stato detto che non c'è una cosa specifica essere fumatore di sicuro non aiuta il fatto che ho una struttura fisica che guarda caso statisticamente è più probabile che capiti non aiuta forse un po' di stress quindi una sorta di reazione implicita del corpo fatto sta che purtroppo mi sono ritrovato con questo problema ma che non riuscivo neanche a salire le scale convinto che fosse un principio di influenza o come ti dicevo prima altri fattori ci vivo sopra per sei giorni ah cavolo eh sì perché dal matrimonio per sei giorni oppure per sei giorni prima poi il matrimonio no no matrimonio e sei giorni ah cavolo e convintissimo che fosse un principio di bronchite ma avevo proprio la voce facevo le telefonate di lavoro e mi stavo anche abituando a parlare così eravamo all'inizio della seconda ondata di covid quindi matrimonio di mia sorella nonostante avessimo fatto tutti i tamponi compagnia bella però il lunedì faccio per andare in ufficio mi chiama mio padre mi fa ma c'hai ancora il raschietto e dico sì ti chiamo un raschietto no 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 vai a fare un tampone che se no se ti sento ancora il raschietto magari in azienda pensano che durante la festa giusto giusto faccio il tampone era di quello che ci volevano due giorni nel frattempo continuo a lavorare a fumarci sopra non avevo più il dolore avevo soltanto il fiato corto e quando arriva il tampone negativo chiamo la mia dottoressa di base mi guardi un secondo per favore ho bisogno di una medicina devo tornare settimana prossima in ufficio mi ascolta non mi mette panico non mi dice niente mi fa domani prendi queste vai all'USL e falle d'urgenza salta la fila tanto ti ho messo l'urgenza non ti dico niente ma forse c'è da fare un qualcosina e il giorno dopo ho fatto le lastre nel giro di un'ora mi ha chiamato e fa fai uno zaino e scappa al pronto soccorso perché sei grave 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 e quindi avevo il polmone completamente collassato mi hanno preso in due minuti e in altri dieci avevo una otto medici o i chirurghi che mi hanno detto ma scusi da quanto è che è così sono sei giorni pensavo fosse un'influenza vedevo che non rideva nessuno ho detto non faccio ridere e hanno detto guarda dacci il numero di tua madre questa è grave niente poi dopo per fortuna mi hanno sfiatato non mi ricordo come si chiamano però dalle costole proprio come un palloncino senti che si riapre il polmone mi hanno fatto capire che se non avessi chiamato il medico di base o mi svegliavo freddo o rimanevo con un polmone forever perché poi il polmone è come una spugna se non lavora si atrofizza certo e qui vabbè finita la prima esperienza 363 giorni dopo stavo finendo un excel di un business plan preciso sì proprio e la cosa divertente è che il giorno prima avevo visto il mio compagno di stanza ce l'hanno detto oh dai vediamoci dopo un po' che dopo ah tu hai smesso di fumare io sì ah io no e finivo un excel dolore alla spalla così mi sono guardato allo specchio e ho detto no dai ma che cosa fa male niente ho iniziato a correre respiravo ho detto no se ho qualcosa nella testa però poi iniziavo a muovermi a fare dei movimenti col torace e sentivo delle frizioni ho detto questa qui questo e questo che 5 minuti fa non l'avevo ho collegato e ho detto qui si è staccato il polmone infatti si è staccato il polmone era sempre quello o l'altro? l'altro l'altro prima il destro poi il sinistro e mi hanno detto bravo ci hai preso dentro stavolta però subito sì però in questo caso qua mi hanno detto guarda di solito un episodio porta a una recidiva del 15-20% così siamo al 60-65 quindi vuol dire che ogni anno ci vediamo dico beh aspetti un attimo quindi cosa facciamo e ho dovuto fare le operazioni non entro nei dettagli tecnici ma una roba abbastanza poco invasiva a livello di cicatrici ma mi hanno dovuto lavorare un po' tutti i polmoni e ahimè ho avuto un po' di problemi dopo niente di clinicamente fastidioso però quando ti lavorano tutta la cassa toracica se ci metti dopo che rompi un osso ci metti un po' a tornare tu sei stato calciatore spero che non ti ci hai mai fatto male ma magari hai avuto qualche conoscenza di qualcuno che dice ok l'osso è a posto ma tornare come prima ad avere il piede di prima al ginocchio di prima auguri stessa cosa sostanzialmente col toracea io mi sono reso conto che ahimè a livello nervoso non riuscivo più a controllarla bene ho detto se continuo così o divento una persona rigida come un cristallo o non so non so più come fare allora ho detto ok mettiamo a posto la salute torniamo in forma e poi dopo torniamo a lavorare in forma quindi sei fermato poi per un annetto più o meno tra una cosa e un'altra si se considero il periodo di maturazione si perché all'inizio i primi quando ho capito che non ero più in grado di fare il mio lavoro ci ho messo due o tre mesi prima di dire ok devo mollare perché la testa mi diceva no dai ti sveglierai domani e questa paranoia andrà via questo dolore andrà via invece era troppo era tutto troppo a fior di pelle quindi ho detto una cosa alla volta e comunque mi sembra che da come ne parli che l'hai affrontata bene nel senso molti si disperirebbero no oddio vanno da come la racconti mi sembra che bene nel senso non era sicuramente una situazione bella sì sì però insomma ci scherzavi se mi avessi invitato un anno e mezzo fa probabilmente non avrei neanche accettato questa di essere qui quindi ora ci sorrido sopra perché devo però diciamo che quando penso a delle esperienze poco positive cerco sempre di sorriderci sopra è un mix di sorriso tra il sarcastico e il consapevole di aver dovuto fare un passaggio evolutivo di cui avrei fatto volentieri meno però penso che alla fine a buon rendere e senti faccio un'altra domanda cambiamo un attimo la situazione cambiamo il punto di vista familiare tu sei il primo di cinque fratelli che però tu sei l'unico maschio giusto? ci sono altre quattro sorelle com'è il rapporto in famiglia? io per fortuna non ho attualmente problemi con nessuno non per quello come la vivete perché alla fine tu hai una delle sorelle è Letra che è contentissima insomma ha un milione di follower e sta facendo insomma è una bomba atomica è Letra e tu sei un imprenditore che lavori con tuo papà e le altre sorelle invece che strada hanno preso? sono curioso perché siete tutti imprenditori? Beh Letra prima di tutto è la prima imprenditrice di se stessa quindi lei di sicuro ha lo spirito imprenditoriale Lamborghini declinato alla sua maniera ce l'ha è una Urus mettiamola così potrebbe essere una Urus bella abbondantemente Ginevra recentemente ha iniziato anche lei il suo percorso nel campo della musica dell'entertainment e quindi entrambe artiste poi ci sono le due le gemelline che poi gemelline è detta tra di noi così in maniera affettuosa ma sono due ragazze anche loro di 24 anni stanno ancora terminando gli studi una è qua a Milano che fa la Marangoni e l'altra invece fa giurisprudenza quindi ancora non hanno insomma saranno libere di decidere cosa fare fuori o dentro dall'azienda anche se secondo me penso che abbiano più delle mire fuori per il momento poi qualora invece cambiasse l'idea è lieto quanto meno ma anche mio padre sicuramente e tra di noi siamo tutti abbastanza legati ma tutti anche molto indipendenti quel tratto artistico in un modo o nell'altro ti porta a crescere a diversificarti dal tuo fratello dalla tua sorella in maniera magari un po' più in alcuni casi pittoresca in alcuni casi più rumorosa senza dimenticare che anche lato mamma abbiamo un po' il tratto artista perché mia nonna era da parte di mamma era una pittrice in famiglia tutto ciò che pittura lato mamma viene molto bene anche mia mamma mia zia il canto quindi diciamo che creatività più verso il lato imprenditoriale DNA di mio padre invece creatività più un po' legata alle arti lato madre e quindi siamo cresciuti abbastanza diversi io sicuramente sono abbastanza diverso ma anche loro siamo tutti abbastanza diversi con dei picchi eclettici e invece magari che è un po' più silenziosa che è la normalità una scala anche io tra fratelli siamo tutti diversi io ho un gemello addirittura che è eterozigota e quindi non siamo quelli uguali identici e siamo opposti anche dal punto di vista del carattere proprio tutto chiaramente questa è la bellezza della famiglia e senti ti faccio un altro paio di domande stai qui fino a un'altra tre ore perché è sempre molto interessante però ti faccio una domanda che faccio sempre a tutti perché insomma sono quelle che stuzzicano un po' a volte ho fatto un video non so se tu l'hai visto ma ho fatto un video dove paro che mi sveglio alle 5 e mezzo del mattino è esploso se tu devi fare un video virale dico a tutti i nostri intervistati parlo delle 5 e mezzo di che ti sveglio alle 5 e mezzo se è vero e esplode la viralità nel web non so per quale motivo però qual è la tua routine? sono tendenzialmente una persona abbastanza mattiniera o meglio detesto svegliarmi tardi anche nel weekend il sabato poi non ne parliamo anche la domenica in generale se anche fossi in hangover per me l'idea è hai fatto le 4-5 di mattina magari hai bevuto anche un pochettino che male c'è dormire fino a mezzogiorno però se penso che lo faccio so che sicuramente ho perso ho buttato proprio via metà della giornata e una giornata preziosa in cui puoi fare teoricamente buona parte di quello che vuoi piuttosto mi sveglio alle 8 e mezza 9 non più tardi poi se anche sono uno zombie bevo due bicchieri d'acqua e mi metto sul divano però so che almeno ho cercato di fare un'attività ma questo da da quando sono piccolino penso che la volta che mi sono svegliato più tardi deve essere stato durante la vacanza di maturità in cui un paio di volte mi sono svegliato alle 11 e mezza a mezzogiorno ma mi sentivo arrabbiato proprio mi dava fastidio ha perso tempo quindi per me la mattina ha l'oro in bocca però non sono uno di quelli che come se fosse insomma un crociato si mette per forza alle 5 no con i dovuti limiti però mai più tardi delle insomma tra le 6 e mezza alle 7 bisogna essere svegli e soprattutto per me è molto fondamentale il momento della colazione cioè toccami tutto toccami tutti i pasti ma non mi toccare la colazione non sono uno di quelli che quando si sveglia è arrabbiato perché ci sono quelli che dicono non mi parlare per un'ora no per me possiamo sono anche tendenzialmente logorroico come puoi vedere assolutamente non sono d'accordo lo quace dai e quindi ti metti giù e fai la tua colazione si in generale preferisco svegliarmi mezz'ora prima o un'ora prima se necessario ma uscire carburatissimo pronto in quinta piuttosto che dire faccio in fretta ho guadagnato mezz'ora poi sono ancora in macchina che non capisco come mi chiamo quello proprio lo detesto piuttosto fino a che la colazione quel momento lì sacro non è stato eseguito perfetto si rimane in casa quando poi sono pronto a partire in quinta non mi piace uscire di casa pensando che sono ancora anche pericoloso l'hard disk ma no ma in generale proprio anche se uno dovesse dire esco di casa subito telefonata importante sono sul pezzo non so so ecco quello per me poi per il resto svolgo una vita abbastanza tranquilla cerco di star lontano dagli accessi di essere bilanciato ecco di non essere né casa e chiesa e nemmeno vita loca ecco non è via di mezzo gli estremi non vanno mai bene mettiamola così e senti ferruzzo ti faccio l'ultima domanda prima di lasciarti tanto ti ringrazio per questa fantastica intervista mi do l'ora di pubblicarla fuori per i nostri amici che sicuramente sbaveranno perché insomma c'è tanto materiale da vedere ti ringrazio per il grande valore l'enorme valore che hai rilasciato hai sganciato in questa intervista ti faccio una domanda ovvero cosa vuol dire per te far parte dell'1% essere nell'1% mettiamola così vuol dire cercare di bilanciare il più possibile onore e responsabilità e dovere per certi aspetti se si è in un modo o nell'altro appartenente a una percentuale di nicchia mettiamola così poco importa di che nicchia parliamo però si ha un dovere di cercare di creare un esempio a volte ci si riesce a volte no a volte il percorso è lineare a volte è pieno di ostacoli però attraverso uno spirito anche intriso di gratitudine cercare di dire so che ho un dovere e una possibilità da non sprecare facciamolo questo è un po' lo spirito secondo me quello è l'essere appartenente a un 1% molto bella come definizione a qualunque nicchia tu fai parte che ci sei arrivato che ci sei trovato che l'hai costruito qualsiasi sia la nicchia devi mi è piaciuto perché non hai detto diritto è un onore un obbligo una responsabilità sostanzialmente hai detto di far vedere di dare un esempio agli altri questo è fantastico e Ferruzzo ti ringrazio veramente per questa super intervista ti do la mano qui grazie grazie a te sicuramente sarà super ragazzi se vi è piaciuta e vi è piaciuta perché l'avete vista fino a questo momento o l'avete ascoltata chiaramente secondo la piattaforma mettete un mi piace secondo la piattaforma mettete una valutazione condividetela con gli amici e sicuramente seguite il prossimo super episodio grazie mille Ferruzzo grazie a te magari ci vediamo in un altro episodio volentieri grazie mille prossimo episodio grazie mille